Aggiungendo ad occuparsi dell'essenza della tecnica, dovendo occuparsene per risolverne la questione, Adeger si chiede se abbia senso chiedersi quale sia l'essenza della tecnica, muovendo dalla concezione classica di essenza. Questa, platonicamente, rimanda a qualcosa di stabile, di fisso. A quel fondo che Adeger attribuisce negativamente alla tecnica intesa come impiego, ma che qui, per esempio nella concezione platonica dell'Edee, pare valere a livello epistemico. Come se la tecnica che abbiamo derivasse da una limitante concezione ontologica e gnosiologica di ciò che è essenziale, di ciò che è essenza, dell'essenza. Essenza come ciò che perdura. Essenza come permanenza. Essenza come idea, come fondo. Ma quindi anche come destino della necessità. Cioè, come essere destinato a restringersi in uno stato necessitante, in una necessità. L'animale è costretto a starsene entro le necessitazioni della propria specie. Tutto ciò, si chiede Adeger, dopo, anche tramite questa concezione dell'essenza, averci caratterizzato la tecnica come fondo, ciò che fa dell'essere un fondo, cioè qualcosa che non va oltre, che non differisce, che si appiattisce. Qui Adeger implicitamente parrebbe ribaltare il discorso, cioè dire che la vera tecnica come fondo è stata finora la metafisica o la tradizione culturale che intendeva l'essenza di ciò che esiste in termini statici, assoluti, definitivi, senza modificazioni. In nessun modo si potrà mai dimostrare che ciò che dura debba risiedere unicamente ed esclusivamente in ciò che Platone pensa come idea, Aristotele come toti e einai, e che la metafisica pensa, secondo le interpretazioni più diverse, come essenzia. Quindi l'invito di Adeger è di pensare a ciò che dura, a ciò che esiste, a ciò che è, anche in termini diversi da quelli tradizionali legati all'essenza. e al genere delle cose che l'essenza dovrebbe indicare. tutto ciò che è dura, ma ciò che dura è solo ciò che perdura, cioè può durare qualcosa anche senza perdurare, può esistere qualcosa anche senza bisogno di essere un'idea platonica o un assoluto, discreto. L'essenza della tecnica dura forse nel senso del perdurare di una idea che si libra al di sopra di tutto ciò che è tecnico, in modo da originare l'apparenza che il termine, la tecnica, designi un'astrazione mitica. Il modo in cui la tecnica dispiega il suo essere si può capire solo riferendosi a quel perdurare nel quale l'imposizione accade come un destino del disvelamento. Ma se è il destino del disvelamento è storia, e se è storia non può essere idea nel senso platonico. anche se il rischio della tecnica era proprio quello, scopriamo adesso, di platonizzarsi, cioè di assumere una essenza statica. e quindi di bloccare il processo del divenire o del disvelamento per ciò che concerne la verità. Al posto di perdurare, Goethe usa una volta nelle affinità elettive l'espressione, adegardisce la misteriosa parola, continuare a concedere. Il suo orecchio sente qui durare e concedere, in una sintonia inespressa. Se però noi consideriamo in maniera più attenta di quanto abbiamo fatto finora che cosa sia ciò che davvero e forse unicamente dura, potremmo dire solo ciò che è concesso dura, ciò che principialmente dall'origine dura, è quello che concede. E ciò che concede, nei termini con cui noi abbiamo provato a rendere il pensiero di Adeger, è la possibilità, ciò che permette, ciò che dura, ciò che costituisce lo spazio del tempo che dà all'accadere, un ambito per accadere, non è o sembra non essere, come intendeva il pensiero classico, metafisico ed epistemico, qualcosa di necessario, ma, per dirla in termini cari ad Adeger, avendo tenuto corsi famosi anche su di lui, cioè Eraclito, termini di Eraclito per dirla, il divenire. È diventato quasi proverbiale una frase come l'unica cosa che resta è il cambiamento, l'unica cosa che non cambia è che tutto cambia. E Adeger qua pare dirci qualcosa del genere. Cioè pare dirci che la tecnica pur rischiando il platonismo massimo di una identità nullificante in quanto assoluta, assolutizzante, riconducente tutto a sé, tuttavia la tecnica facendoci riflettere sull'essenza dell'essere che mette alle strette rischiando di nullificarlo, ci fa rivedere le nostre concezioni in merito e considerare come stabile, come fondativo, come fondamentale, non la stabilità, l'idea, l'assoluto, la base, ma il divenire. Eraclito è permenideo perché cerca una base, ma questa base l'essere è in divenire, l'imposizione in quanto è quello che costituisce l'essere della tecnica è il durevole. Vige essa nel senso di ciò che concede? Già, la semplice domanda sembra essere un errore evidente. L'imposizione, infatti, secondo tutto ciò che si è detto, è un destino che riunisce nel disvelamento provocante. Provocare può significare tutto tranne che concedere. Così almeno sembra, fino a che non facciamo attenzione al fatto che anche il provocare all'impiego del reale come fondo rimane sempre un mandare che mette l'uomo su una certa via del disvelamento. In quanto è tale destino, ciò che costituisce l'essere della tecnica porta l'uomo verso qualcosa che egli non potrebbe inventare né tantomeno produrre da se stesso. Già che un uomo che sia solo uomo unicamente da se stesso è qualcosa che non esiste. Ma se questo destino l'imposizione è il pericolo estremo non solo per l'essenza dell'uomo ma per ogni disvelamento come tale, un tale mandare potrà ancora chiamarsi un concedere? Certo e pienamente nel caso che in questo destino abbia a crescere anche ciò che salva. Ogni destino di un disvelamento accade a partire dal concedere e in quanto concedere. Solo questo infatti porta all'uomo quella vera parte al disvelamento che la cadere del disvelamento adopera e salvaguarda. In quanto così adoperato e salvaguardato l'uomo è traspropriato all'evento della verità. Ciò che concede quello che invia nel disvelamento in questo o quel modo è come tale ciò che salva. Questo infatti fa sì che l'uomo guardi all'edinità suprema della sua essenza e vi ritorni. Questa dignità consiste nel custodire la disvelatezza e con essa sempre innanzitutto l'essere nascosto di ogni essenza su questa terra. Proprio nell'imposizione che minaccia di travolgere l'uomo nell'attività dell'impiegare spacciata come l'unico modo del disvelamento e che quindi spinge l'uomo nel pericolo di rinunciare alla propria libera essenza. Proprio in questo pericolo estremo si manifesta l'intima indistruttibile appartenenza dell'uomo a ciò che concede. Tutto questo a patto che da parte nostra cominciamo a prestare attenzione all'essenza della tecnica. Quindi la questione della tecnica è la questione dell'uomo mette l'uomo in questione perché lo costringe a interrogarsi sull'essenza del tutto sull'essenza dell'essere. Qual è la base comune se ve ne una di tutto l'essere? così contrariamente a ogni nostra aspettativa ciò che costituisce l'essere della tecnica alberga in sé il possibile sorgere di ciò che salva che non è detto che poi avvenga siamo nel rischio massimo siamo in piena crisi e come sempre avviene nelle crisi grandi maggiori può essere una situazione che conduce alla guarigione oppure alla morte tuttavia senza la tecnica come imposizione e pericolo estremo che annienta l'essere non si darebbe una messa in discussione della nostra concezione della tecnica e senza di essa l'uomo come voleva Pico della mirandola non troverebbe la sua dignità ma si accontenderebbe dopo due millenni e mezzo di posizioni ancora platoniche tu pericolo